è bello è vero così è finito bella a tutti ragazzi abbandonati a questo nuovo video sono junk03 e oggi siamo in un video allora ragazzi in questo video volevo dirvi un paio di cose questo video è tipo un video cioè è un avviso tipo di un video che starà per uscire sul mio canale non so sul è un video in collaborazione con iolo di rtl non so quando lo faremo quando andrò a casa sua o quando lui verrà a casa mia ma non viene quasi mai a casa mia ragazzi faremo un'intervista doppia che poi successivamente la farò anche con edo gamer 18 quindi però ragazzi lascio quando farò l'intervista doppia con iolo di rtl lascerò il link del suo canale in descrizione e anche quello di edo gamer ragazzi in questa intervista in questa intervista doppia allora in pratica ci sarà una persona che ci farà le domande poi ovviamente ti daremo il video però non abbiamo ancora deciso chi sarà la persona quindi potrà essere chi comunque oppure che ne so che tipo posso essere io oppure drtl quindi nel senso che prima registriamo le domande che faccio io a lui se nessuno magari vuole farci delle domande prima registriamo le domande che faccio io a lui e poi registriamo le domande che fa lui a me quindi le mettiamo dividiamo lo schermo mettiamo i due i due video uno accanto all'altro e così perché però lo editerà lui perché io non ho dei programmi buonissimi lui usa sony vegas quindi capirete lo edita lui e poi me lo manda tramite whatsapp e io lo posto su youtube quindi ragazzi ho la tosse e volevo dirvi un paio di cose un'altra cioè delle altre cose ieri stavo giocando stavo facendo un gioco tipo a conversano dove abito in pratica ci sono scusate se non guardo voi però come sempre devo guardare l'orario e i secondi di registrazione i minuti di registrazione perché non vorrei fare il video di un'ora e mezza ovviamente sto scherzando e ragazzi in pratica in pratica stavo giocando un gioco che si chiama zombie che consiste nel per chi non lo sapesse cioè ci sono due persone che fanno gli zombie e tutti però questo gioco si fa tipo in dieci nove persone due persone devono essere gli zombie e il resto devono essere umani e devono cercare di scappare noi l'abbiamo fatto per tutto il centro storico della mia città siccome conversano non è un paese in pianura ma bensì in collina ci sono un sacco di scalinate allora io stavo correndo c'erano tipo delle mattonelle molto ovviamente ricchissime che c'era tipo il muschio sopra e si scivolava un casino allora io stavo correndo erano tipo undici scalini stavo correndo al secondo scalino scivolo gli scalini non è che erano così così erano proprio così tipo scivolo e cado rotolando da tutti questi scalini mi sono fatto veramente malissimo si è tolta un'unghia del piede poi mi è uscito un casino di sangue dalla gamba ecco ecco qua ma non so se si vede benissimo tipo sta un taglio così cioè avevo tutto il sangue qua io non mi ero accorto che mi stavo uscendo il sangue le mie amiche i miei amici mi hanno detto Gianluca ma ti sei accorto poi io avevo la camicia no? dietro c'era il colletto della camicia ed era tutto sporco di sangue gli ho detto tutto Gianluca ti sei accorto che sei sporco tutto di sangue e io ho fatto davvero e sono accorso nel bagno del ristorante e mi sono sciacquato perché ragazzi cioè veramente qua non so se si vede mi tolgo ok aspettate un attimo mi devo togliere se no non si vede un cacchio ragazzi non so se si vede questo è un cerotto e questo è tipo per un graffio e da qua mi è riuscito tipo un gotto di sangue però ho messo il cerotto lì perché doveva essere al centro da dove tipo c'era una bolla di sangue ed esplosa esplosa cioè tutto del sangue che poi mentre tornavo a casa pure questa bolla è nata di nuovo è diventata dura poi me la sono tolta è uscito tutto il sangue poi mi sono disinfettato e forse mi devo mettere i punti quindi sì quindi sì mi sono aia poi mi sono tipo rotto il dito qua devo andare a mettere le fasciature tra un po' ragazzi ehm vado devo un attimo uscire di casa con mia madre perché devo andarmi a mettere le fasciature e torno tra poco ok fasciatura al dito quindi per i miei amici oggi io non esco quindi e comunque quando uscirò non potrò farlo portire perché cioè non so quando me la toglierò perché non l'ho detto tutta mia madre comunque aia aia fa un male cane che tipo non vi immaginate vabbè poi ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollice in su e ragazzi oggi giorno speciale non è per copiare nexorflame ma bensì perché mi piace la loro idea della light challenge quindi avete capito la light challenge oggi io la voglio e la lasciate con la lingua like con la lingua ragazzi e se ci riuscite scrivete sotto nei commenti hashtag dito fratturato e niente e ragazzi dopo aver lasciato like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao